Ragazzi e ragazze, siamo appena usciti dal cinema e... come è stato? Proprio bello emozionante cioè, io raga non andavo al cinema dal... tanto pure anche piovuto io personalmente non andavo al cinema da quando avevo tipo 16-17 anni e... Raga, come lei fa commenti extra del film, comunque e raga, comunque è stata un'esperienza troppo troppo bella magari perché è abituato ad andare sempre al cinema io invece guardo i film Netflix, Film Vision queste cose qui ma invece andare a vedere il film al cinema ne vale la pena, veramente poi il film in sé non spoilerò niente ma il film è davvero bellissimo e... con molti colpi di scena davvero bello raga e... niente dopo una bella serata così e abbiamo mangiato abbiamo visto il film abbiamo mangiato le patatine vedendo il film infatti lei fa vedere la borsa? proviamo anche il sacchetto con le patate perché raga, i popcorn non tanto li digerisco però... cioè raga è stata un'esperienza troppo bella perché è stato un film bello non annoiato per niente cioè emozionante ma... e raga è stato proprio un film pieno di effetti speciali e poi questo squalo ma vabbè non spoileriamo niente però ecco è stato un film molto molto bello c'è raga senza parole guarda e poi oltretutto c'è anche da dire questo che il film mentre io non ero scettico però mentre il film pensavo vabbè sarebbe bello però il solito film di squalo no raga sono riusciti a dare quel tocco più strano ma bello al film cioè davvero una cosa bellissima raga quindi adesso poi questi giorni unirò un altro vlog cioè domani unirò un altro vlog così ne parleremo ancora meglio